Progetto per la banda ultralarga in Abruzzo. Ad annunciarlo c'è la Regione che ufficializza un investimento in gente per portare anche nelle aree rurali una copertura efficiente e cancellare così definitivamente il divario registrato fino ad oggi. Un progetto finanziato con i fondi del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2006-2013, misura 3-2-1 per quanto riguarda gli investimenti nelle aree svantaggiate nel nostro territorio. Parliamo di 25 milioni di euro a favore di 94 comuni delle aree interne della nostra Regione che saranno serviti dalla fibra con la banda ultralarga, soprattutto al servizio delle imprese agricole del nostro territorio che devono avere l'opportunità di competere sui mercati nazionali ma soprattutto su quelli internazionali. Siamo in una fase di aggiudicazione provvisorio dei lavori, ci auguriamo tutti che possano iniziare tra qualche settimana l'ente appaltante e l'infratel.